Ebbene a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con lo squad builder su FIFA 19 Che vi consiglio una squadra che potrete appunto formare sul vostro ultimate team Con solamente 400k Prima di iniziare vi invito a lasciare like al video A iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto E detto questo partiamo subito Allora il modulo di questa squadra è 4-3-3 La valutazione squadra è 87 e l'intesa è 100 Partiamo subito con la porta In porta abbiamo Scesni, portiere la Juventus La difesa poi è formata da terzino sinistro Alaba Difensore centrale Coulibaly L'altro difensore centrale è Manolas E terzino destro è Salico Per quanto riguarda il reparto di centrocampo abbiamo Goresca IF 85 Allan 82 del Napoli Raja Ringolan 85 dell'Inter E questo era appunto il reparto di centrocampo Infine per quanto riguarda il reparto d'attacco abbiamo Marco Reus 85 Poi attaccante centrale abbiamo Roberto Firmino 86 E poi abbiamo infine ma non per importanza abbiamo Mohamed Salah col suo 88 del Liverpool E questa era appunto una squadra che potete costruire con 400k E il modulo vi ricordo è un 4-3-3 Una valutazione squadra 87 e l'intesa 100 E detto questo se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare like se ne volete altri Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E noi ci vediamo al prossimo video E ciao Grazie a tutti